Ciao ragazze, oggi carne e ferri, è domenica 23, oggi ci sono i carni mascherati e adesso andiamo giù da mano che sta preparando la carne mentre va a fare il nome nel suo dindolino, a morire! Ciao, prepariamo l'insalata? Sì, manca solo la carne, dov'è il papà con la carne? Dov'è papà con la carne? Eh? Dov'è papà con la carne? Dov'è andato? Chiamalo papà! Papà! Perché non lo dici? Perché non lo dici più? Di mamma e papà, l'hai detto una volta? Dai no! Dai no, dimmelo! Mamma! Mamma! Dai dimmelo no! L'ingoccia dimmi mamma! No! Dimmi mamma! Buon appetito! Buon appetito! Nami! Perché piangi? Perché il gelato è freddo! Mmm è buono però! Questo non è freddo! Che buone le vienmette! Dammi lì, dammi lì! Mmm! Mi piace! Ma! 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 K È La È È È È Tu voleri comprare il tappeto? Io avere il tappeto. Tu voleri scoppa? Io avere anche scoppa. Mi metto così, mi metto tanto sono. Ciao Orsetto, mi metto il tappeto. Oh, il mio! Guarda lì che belli! Questa è per mia! Amo, guarda! Sì, è durita! 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 Sì, va qua! Sì, va! Sì, è durita ! Chiunque? No, è durita! Aveva Santaia! Grazie.